Scattano da domani cinque giorni di arancione a partire da lunedì 29 marzo fino a venerdì 2 aprile e poi martedì 6 per 281 comuni abruzzesi in una sorta di calendario di avvicinamento alla Pasqua mentre nei restanti 24 comuni della regione saranno applicate ulteriori restrizioni da arancione rafforzato come stabilito dall'ultima ordinanza regionale del governatore Marsilio. Poi dal 3 al 5 aprile come da DPCM il rosso tingerà tutta l'Italia. Colori e divieti andranno di pari passo e allora proviamo a riepilogare i più importanti. In arancione saranno consentiti gli spostamenti all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22, verso le altre località saranno invece permessi per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Visite a parenti amici saranno consentite una volta al giorno all'interno del territorio comunale sempre tra le 5 e le 22 con il limite di due persone oltre a figli minori di 14 anni e a persone disabili o non autosufficienti conviventi. Negozi, parrucchieri e centri estetici saranno aperti e bar e ristoranti chiusi con possibilità di asporto fino alle 18 per i bar e consegne a domicilio fino alle 22. Lo spostamento verso le seconde case sarà possibile anche nelle regioni in fascia arancione o rossa ma solo al nucleo familiare e a patto che le abitazioni siano disabitate. Nei 24 comuni abruzzesi a maggiori restrizioni invece gli spostamenti saranno vietati salvo che per necessità salute e lavoro. Chiusi i negozi. L'attività motoria potrà essere svolta solo individualmente e in prossimità della propria abitazione, quella sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Poi con il rosso pasquale dal 3 al 5 aprile in tutta Italia diventeranno vietati gli spostamenti ma le visite a parenti amici saranno consentite una volta al giorno e all'interno del territorio regionale sempre tra le 5 e le 22 con il limite di due persone oltre a figli minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Chiusi i negozi e servizi alla persona come anche bar e ristoranti che potranno avvalersi di asporto e consegne a domicilio. Partecipare alle messe sarà possibile ma raggiungendo la chiesa più vicina alla propria abitazione dove si potrà celebrare una Pasqua di risurrezione e si spera presto anche di rinascita dal virus.